Hey, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Anni fa ho lavorato con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Se ti appassionano l'attualità, la politica, l'economia, la tecnologia, questo podcast fa per te. Ogni settimana commento i fatti più interessanti e racconto in retroscena del partito più improbabile della storia. Talvolta ospiterò qualche amico e farò sentire i vostri messaggi rispondendo alle vostre domande che potete inviarmi dal sito www.marcocanestrari.it. Quello che stai per ascoltare è la registrazione di un episodio di Osservatorio Movimento 5 Stelle, la mia rubrica su Liberi Oltre insieme a Nicola Biondo e Costantino De Blasi. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sul canale YouTube di Liberi Oltre le Illusioni. Buonasera Marco, buonasera Nicola, buonasera a tutti i miei amici. Ciao ragazzi, buon Natale, buon anno in ritardo. Ancora una volta. Anche buona Befana. Anche buona Befana che è appena passata. Allora, finalmente ho l'opportunità di parlare con qualcuno di quello che è successo in settimana al governo. In settimana veramente sono due settimane abbondanti, forse tre addirittura, che si cominciano ad intuire o certi desideri, oppure certe naturali conclusioni di una legislatura che è nata male e probabilmente ha avuto un momento, un sussulto con la prima parte dell'esperienza Draghi, però adesso sta declinando. Mi pare, almeno nella mia bolla, tutti quanti concordano sul fatto che la spinta propulsiva, per usare un termine abusato, del governo Draghi si sta affievolendo. E forse, adesso proveremo a chiederci e a ragionare su questo, forse, 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 una spinta a questo affievolimento l'ha data nell'ultime settimane proprio il Presidente del Consiglio. Questa è la nostra sensazione. Adesso cominceremo a discutere, io ci ho fatto un paio di post, ho scritto di esperienza Draghi di fatto finita, qualunque sia l'ending game, però il governo, secondo me, si è spento per volontà di Draghi, ma adesso sentiamo anche Nicola e Marco, come credo, hanno le stesse sensazioni. Marco, prego. Vado io, vado io, vado io. Io prendo in prestito un pezzo delle analisi che hanno fatto i nostri amici Carlo Alberto Carnevale Maffei, Oscar Giannino e Renato Cifarelli, sul loro podcast, perché secondo me è un'analisi molto lucida. Siccome tutto inizia con la conferenza stampa di Draghi di fine anno, in cui Draghi stesso sostanzialmente dice abbiamo fatto quello che dovevamo fare, il PNRR è avviato, abbiamo raggiunto i 51 obiettivi, non entriamo nel merito dei 51 obiettivi, però la sintesi è i 51 obiettivi sono sostanzialmente minchiate, cioè hanno avviato 51 cose con delle leggi impostate, eccetera, eccetera. Scusami Marco, io ci ho scritto un articolo su questo, e poi ho visto che anche appunto Renato, Carlo Alberto e Oscar ne hanno parlato anche loro, e concordiamo tutti quanti sul fatto che i 51 obiettivi non sono obiettivi, ma sono dei passaggi comunque previsti al PNRR, ma che non possono essere burocratici. Sono leggi delega, sono impegna, ci sono tre, forse quattro riforme che dovranno però diventare operative proprio in regolta e attività, attenzione, quindi siamo ancora in una fase molto fluida. Allora, aggiungo, per chiudere questo minicapitolo, i 51 obiettivi non sono obiettivi, però la Commissione chiuderà senz'altro un occhio, non andrà ad approfondire, e la prima tranche verrà sicuramente, entro poche settimane, sicuramente verrà erogata. Il problema poi semmai sorgerà dopo, e appena finisce l'intervento dirò una cosa perché... Ma lo dico dopo, vai. Certo, certo. No, no, ma questo è, nel senso che Draghi ha detto, missione compiuta, io sono disponibile a qualsiasi ruolo, purché sia il Presidente della Repubblica, fondamentalmente detto in quella conferenza stampa, la frase è, io sono un nonno al servizio delle istituzioni, cioè è chiaro che la metafora allude al Quirinale, facendo finalmente capire in maniera molto molto chiara quali sono i suoi desiderata, secondo me è come tendo un errore abbastanza grossolano, tra l'altro. In questo, insomma, credo che sia giusta la considerazione che ha fatto, non mi ricordo, mi sta sfuggendo in questo momento l'autore di questa riflessione, che non ci si candida alla Presidenza della Repubblica in questo modo. Non è, non è proprio, non è, come dire, grammaticalmente dal punto di vista istituzionale corretto, non è neanche elegante, e soprattutto in un momento come questo dai la stura alle lotte interne ai partiti che erano, insomma, sotto traccia, che a questo punto si sentono svincolati dall'obbligo, se vogliamo, morale di sostenere il governo Draghi, perché è Draghi stesso che ha detto che il suo ruolo è esaurito, e purché la maggioranza che ha approvato il PNRR rimanga la stessa, per la sua prosecuzione non ci sono problemi. Non penso che questo sia vero, penso che invece le persone contino, e il carisma e lo standing conti, soprattutto in una fase come questa, però tant'è, questo è quello che è successo. E le conseguenze le abbiamo viste immediatamente, immediatamente questa settimana, anzi, con le ultime due settimane, dieci giorni, col casino bestiale che è stato fatto, con i decreti per il Covid. C'è una situazione che sarebbe comica se non fosse tragica. Io, tra l'altro, piccola parentesi personale, ho avuto l'opportunità di confrontare giorno per giorno come viene gestita la questione quarantena e conseguenze della mafia, qua, perché l'ho avuta io, di ritorno a New York, il giorno in cui sono atterrato sono risultato positivo, e contemporaneamente a due giorni di distanza amici in Italia hanno avuto il tampone positivo, e quindi mi sono reso conto di quali sono le differenze. Quello che succede in Italia è scandaloso a usare un eufianismo. Persone letteralmente intrappolate in casa per motivi burocratici e per scelte scelerate, tipo quella di imporre un tampone molecolare negativo per uscire dalla quarantena, una cosa che non ha alcuna base scientifica, per fare un esempio, la differenza con qua è che qua, dopo dieci giorni, se comunque, se non hai sintomi, libero dalla quarantena e se testi negativo al lateral flow test, che è il tampone rapido, per due giorni consecutivi, a partire dal sesto, puoi interrompere la quarantena. Non c'è necessità di nessun certificato di guarigione, il green pass o l'equivalente continua a funzionare, perché ovviamente è ingestibile come funziona in Italia, da quel che ho visto personalmente. Quindi, con questa confusione che è stata fatta agli ultimi giorni e con questa anarchia di fatto tra comuni, regioni, governo, ministero dell'istruzione, sulle riaperture delle scuole, governatori che fanno, che prendono decisione autonomamente, come De Luca in campagna, insomma, a me sembra che la situazione sia completamente sfuggita di mano. Beh, ragazzi, io come sempre vi ripeto, non sono un esperto di politiche sanitarie, bisognerebbe anche essere esperti di psicologia della politica per decrittare un po' quello che succede. E io non sono esperto né dell'una né dell'altra. Io ve lo dico così come mi viene. Draghi non è proprio uno nato l'altro ieri, cioè non è che ha fatto il consigliere d'amministrazione della Popolare di Lodi, con tutto il rispetto per la Popolare di Lodi. È uno che la politica l'ha vista fare e l'ha fatta. E l'ha fatta. Fa da una vita. Ha utilizzato un po' quel detto che si dice, no, ha bandito, bandito e mezzo. E ha giocato, sta giocando la sua partita, insomma. Non potrebbe non essere così perché il Parlamento è quello che è. Ce lo ripetiamo ancora una volta, questo è il Parlamento nato dalle elezioni del 2018, quindi anni luce per un verso da quello di adesso, dalla situazione per come viene fotografata anche dai sondaggi, ma anche dalla situazione internazionale rispetto al 2018. Nello stesso tempo è però un Parlamento che ha le due forze populiste che hanno più o meno la maggioranza. e secondo me andrebbe decrittato l'azione di Draghi proprio come personaggio singolo in un Parlamento del genere, così come andrebbe decrittata tutta la situazione a livello mondiale attraverso questa faglia, cioè noi non ci siamo lasciati alle spalle il populismo in sei mesi perché è stato eletto Biden, perché è arrivato Draghi, anzi, anzi, questo è il secondo tempo e sarà un secondo tempo durissimo che probabilmente per usare questa abusatissima metafora calcistica ci porterà i supplementari. Io però vi vorrei dire anche un'altra cosa, io che moderato non sono per carattere e per quel poco di cultura che mi sono fatto un po' da autodidatta, vi dico che invece bisognerebbe essere moderati in questo momento. Ultimamente ho avuto modo di vedere dei documentari su alcuni importantissimi e storici discorsi fatti da candidati alla presidenza degli Stati Uniti o da presidente degli Stati Uniti in carica e ne ho apprezzato la lontananza dai toni che invece si usano soprattutto in Italia. Ve lo ricordate quando si accusava Grillo nel triennio 2010-2012 di puntare il dito, no? Di costruire la dicotomia noi e loro tutti. Noi e loro. Quello che ha fatto Macron è indicativo, per esempio. Con un'espressione molto colorita ha detto non mi sono rotto i coglioni di Denovax, sostanzialmente gli renderò la vita impossibile. Beh, quello è Grillo. Quello è Grillo con qualcuno che gli scrive discorsi. Ecco, questa roba qui è pericolosa. È pericolosa ed è inutile. Con questo non voglio essere paraculo. Nel senso anche a me fanno incazzare un sacco di comportamenti pubblici e privati. Ma sempre di più mi rendo conto che non ce ne usciamo puntando il dito. E mi fa specie che alcuni nuovi protagonisti della politica italiana anche persone di eccezionale levatura e cultura io penso per esempio a Marco Bentivogli che ha una sensibilità nel trattare i temi del lavoro che non si vedeva da qualche decennio però capita a tutti di usare la politica della divisione. Ragazzi, non funziona anche perché i maestri del caos della divisione sono molto più bravi nel farlo rispetto ai neofiti. Guardate che cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Io chiudo dando la mia personale e privatissima sensazione quello che è finito il secolo americano è veramente finito il secolo americano. La democrazia americana è ormai un simulacro e fa specie perché forse la fine questo lo diranno gli storici fra qualche tempo la fine del secolo americano è avvenuta nel momento in cui hanno hanno esportato la visione imperiale di Washington capitale dell'impero e dopo l'11 settembre 2001 si sono imbarcati in quell'avventura che lo dico anche in maniera molto semplicistica non ha permesso l'apertura di nuove frontiere di libertà ma ha chiuso nuove frontiere di libertà con questo io non sto entrando nella critica si doveva fare o non si doveva fare ma questa è la conseguenza insomma cioè ci sono paesi dove un tempo non si andava perché sono oggettivamente pericolosi e sono pericolosi per prima cosa per chi ci vive purtroppo e lo sono immensamente pericolosi ancora adesso è finito il nuovo secolo americano e questo significa che anche noi per primi siamo in un certo senso delle vedove di qualcosa che abbiamo visto più o meno a seconda dell'età che abbiamo e che non c'è più insomma hai nominato Marco Bentivogli una delle prossime volte lo invitiamo Marco è un carissimo amico con piacere di alcuni temi conviene parlare con lui perché fa delle riflessioni anche profonde non sempre sono d'accordo con Marco lui lo sa però su alcune tematiche meglio così facciamo qualche bella discussione esatto comunque è sempre un piacere sentirlo allora Marco la bellezza del ragionamento di Marco è sempre quello che lui individua nella perdita di fiducia e enormi problemi che entrano pesantemente nella psicologia di ognuno di noi di quanto siamo fragili e di quanto siamo e di quanto è impossibile uscirne individualmente cioè individualmente magari ne usciamo ma come Nicola e a proposito di questo l'altra persona che dobbiamo invitare un altro carissimo amico che è Alfonso Fuggetta che oggi ha pubblicato un bellissimo post dopo magari vi taggo su Twitter e lo metto qui in descrizione è una bellissima riflessione sulle contrapposizioni di cui parlavi tu bianco-nero l'avrei citato io l'avrei citato io esatto Alfonso è un altro carico raccontatomelo perché io seguo il professore ma non l'ho letto non è la prima volta che Alfonso fa queste riflessioni chiaramente sono di strettissime attualità soltanto che molto spesso magari c'è anche la sensibilità per fare riflessioni di questo tipo ma poi quando si sdrove in una discussione soprattutto sui social mi riferisco a discussioni appunto alla politica il covid come affrontare la pandemia eccetera eccetera Alfonso dice dovremmo cercare tutti quanti di renderci conto che se uno è d'accordo con te non significa che quello è il cattivo è lo stronzo estremizza in un caso non necessariamente chi fa determinate riflessioni è automaticamente un novax i novax esistono sono dei cretini ma non è necessario non è detto sì esattamente esatto e allora su come affrontare su come affrontare mi viene da dire guarda è una parola che non mi piace particolarmente ma mi tocca usarla affrontare con razionalità e umanità al contempo le discussioni è un tema di questo in questo periodo di questi tempi e credo che Alfonso possa dire la sua in modo molto compiuto un attimo su Draghi allora non è bello autocitarsi prima dicevo un articolo che ho scritto io so per certo ma proprio per certo mi dovete credere sulla parola che quando si cominciò a fare il nome di Draghi nell'agosto-settembre del 2020 Draghi non avesse nessuna voglia di andare a Palazzo Pigi lo so per certo sicuro soprattutto una situazione come questa che non è la situazione pandemica la situazione politica quella di cui discutiamo in questa rubrica da tantissimo tempo non aveva nessuna voglia di andarsi a gettare nella mischia con un Parlamento come quello che abbiamo ai noi dal 2018 e con le divisioni che inevitabilmente ci sono e che siano già manifestate in occasione della pandemia poi vabbè qualcosa è cambiato fa niente probabilmente civil servant qualcuno l'ha definito per servizio civile verso il paese ha accettato ok secondo me e questo lo scrissi appunto quando una settimana prima che venisse andasse al Senato a presentare la sua azione di governo aveva fondamentalmente tre comi si era dato tre obiettivi Draghi il primo era quello di sistemare un piano nazionale di ripresa e resilienza che così come era stato presentato da Conte era assolutamente ricevibile e quello l'ha fatto chiaramente partendo da una base però modificandola almeno nei punti qualificanti che poi sarebbero serviti e sono serviti il 30 d'aprile ad avere l'ok da parte della Commissione Europea il secondo era quello di impostare una campagna vaccinale che funzionasse perché anche in quello eravamo drammaticamente indietro io vorrei poi magari un giorno lo farò riprendere tutti quanti i bollettini che venivano rilasciati per far vedere come quando abbiamo avuto le prime scorte di vaccini il nostro commissario straordinario la struttura commissariale straordinaria per la vaccinazione ha cominciato come già aveva fatto peraltro con l'assunzione di medici infermieri e i bandi iscritti alla cazzo insomma così via eravamo drammaticamente indietro e quell'altra situazione l'assistimata scusate interrompo Arcuri ricordiamocelo perché questa cosa mi fa bestialire Arcuri in conferenza stampa dichiarò che non aveva lui non aveva proprio l'intenzione di iniziare il piano vaccinale quando stava iniziando la seconda ondata esatto voleva aspettare la fine della pandemia per iniziare il piano di vaccinazione questa è una roba credo al limite del 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 reato di epidemia colposa certo certo tra l'altro gli obiettivi ma poi ripeto appena trovo un po' di tempo li documenterò gli obiettivi che con Arcuri sono stati raggiunti fra fine aprile e fine maggio che con Figliuolo scusate Arcuri li aveva posti a settembre cioè quindi con mesi e mesi di ritardo e chissà quali sarebbero state le conseguenze di un ritardo così grave detto ciò terzo obiettivo secondo me non dichiarato era quello di gestire la fase pandemica senza ricorrere lockdown cosa che è stata fatta ora qui si aprirebbe un capitolo enorme è stata fatta bene è stata fatta male secondo me è stata fatta complessivamente male soprattutto sul lato della comunicazione è stato sul lato della comunicazione è stato fatto malissimo però è stato fatto noi in lockdown non siamo tornati vi ricordate sicuramente vi ricorderete quando fece in conferenza stampa cenno al rischio calcolato no? il rischio calcolato è contenere l'epidemia però lasciando tutto quanto aperto io credo che questi fossero i tre macro obiettivi di Draghi ora come sono stati raggiunti a proposito del PNR l'abbiamo detto anche però data la maggioranza di governo che lo sostiene che è una maggioranza litigiosa di per sé perché in Italia la politica è litigio fondamentalmente è distante culturalmente in modo clamoroso pensate quanto è distante letta da Salvini o da Conte Salvini da Conte oltretutto hanno pure litigato o i 5 Stelle da Berlusconi insomma c'è una distanza ma no però qui però scusami la battuta Conte non è distante da nessuno hai ragione hai ragione hai ragione a proposito di moderatismo hai ragione Conte non è distante da nessuno ma soprattutto Conte è come la plastilina Conte è come la plastilina questi 5 Stelle siano particolarmente distanti da Berlusconi secondo me non sono particolarmente distanti da Berlusconi queste 5 Stelle anche questo è vero area di Maio sì 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 anche questo è vero ne parleremo ne parleremo comunque ci sono delle differenze profonde allora governare una maggioranza così complicata e litigiosa la politica è complicata in Italia di per sé non è soltanto il fatto di Conte Letta Salvini e così via gli altri interlocutori è già complicata di su ma poi con questi 4 scalmenati che doveva mettere insieme ad un tavolo secondo me si è posto sbagliando degli obiettivi troppo bassi gli obiettivi minimi e poi ha mollato la presa Michele sostiene e io sono d'accordo con lui probabilmente perché sapeva che la sua il suo endgame sarebbe stato il Quirinale perché così gli era stato detto gli ha detto faccio queste tre cose dopodiché tenterò di trattenere certe 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 spinte anche se poi per esempio sul 110% non ha trattenuto nulla su misure clamorosamente sbagliate non ha trattenuto nulla la legge di bilancio è uno schifo lo dico senza mezzi termini la legge di bilancio è uno schifo non migliore o non significativamente migliore rispetto a legge di bilancio che abbiamo avuto sempre e che in particolare abbiamo avuto con i due governi Conte non è migliore di quelle e quindi ha mollato tutto perché? perché a gennaio c'è una scadenza si va a votare e probabilmente la sua come dire ha già in mente il trasloco poi vedremo se sarà effettivamente così ma questa è l'idea che mi sono fatto io e qui c'è tutta la come dire la drammatica debolezza della politica italiana che non riesce mai neanche con la presenza di una persona del calibro di Mario Draghi di riportare la politica il paese su una strada corretta non si tratta di ideologia non voglio un governo liberista e liberale io dico mi accontenterei di un governo che fa le cose di buon senso sul buon senso purtroppo neanche Draghi è servito neanche Draghi è bastato si ha migliorato un pochino il reddito di cittadinanza alcune cose che pure venivano chieste vi ricordate il cashback altre cazzate quelle lì le ha cancellate Arcuri è stato mandato via dopo due settimane è stato sostituito da Figliolo però poi fondamentalmente ha mollato e tra le righe l'ho anche detto come ricordava Canestrali nella famosa conferenza ma perché questo però Costantino questo interroga come ti posso dire scusa la retorica gigantesca i destini di come gestire una democrazia in un momento così incasinato cioè tu lì a Palazzo Chigi puoi mettere Gesù a 30 anni al massimo della potenza dei suoi miracoli ma poi anche Gesù si romperebbe le balle capito e direbbe muoia Sansone con tutti i filistei perché questo forse perché ci siamo anche dimenticati perché uno come Draghi e anche io questa quella cosa che tu dicevi credetemi lui non aveva nessuna intenzione di andare a fare il presidente del consiglio certo perché è una persona intelligente per cui lo sapeva in che cazzo di guaio si doveva andare a ficcare e poi la signora Vera si arrabbia no no sto scrivendo sto scrivendo ora poi questo lo raccontiamo alla fine fammi finire un attimo perché poi mi perdo sono vecchietto devo fare già la quarta dose se continuo così ma perché Mario Draghi è arrivato alla presidenza del consiglio perché stava cambiando un mondo perché c'era un nuovo presidente degli Stati Uniti perché la leadership di Conte era venuta completamente meno e c'era un problema quasi di tenuta democratica in questo paese ecco perché Draghi è stato acchiappato perché al passato no no non scherziamo con queste cose non scherziamo davvero con queste cose non sto affatto scherzando adesso poi Marco non scherziamo con queste cose noi avevamo un presidente del consiglio che davanti allo scempio del 6 gennaio 2021 è stato zitto è stato zitto io non penso che stiamo fuori tu non mi devi tu non mi devi provocare perché io sono partito veramente in stile home dalai lama capito se no mi ricordo tutta la gente che va bene i miei vicini di casa va bene i miei cari amici che mi dicono no però Conte ma poi leggo cose da persone che invece sanno benissimo che cosa che cosa ha significato quell'uomo lì a Palazzo Chigi per due anni e passa però eravamo combinati così detto questo Costantino sì è verissimo però il momento di passaggio non è solo la ciliegina sulla torta di questa cazzo di pandemia il problema è che noi non riusciamo più a fare i conti con i costi reali delle democrazioni e i costi reali delle democrazie sono per il saluto fascista davanti alla tomba di Benito Mussolini è un costo della democrazia perché se non lo fossimo andremmo lì e succederebbe il bagno di sangue che non piacerebbe neanche a me per quanto diciamo io per usare un eufemismo disistimi i fan di Benito Mussolini però noi ci dobbiamo fare una volta ci dobbiamo fare un conto Costantino e Marco voi siete uomini di numeri io un poco meno per quanto ne sia affascinato dai numeri però dobbiamo farci questo conto le democrazie hanno dei costi soprattutto in termini di incazzature furibonde ma come cazzo fai a dire una cosa del genere Conte a paragonare Giuseppe Conte l'avvocato d'affari a uno che ha fatto il banchiere europeo e però c'è e questo è un costo sociale se non ci piace c'è sempre la Cina che ci accoglierebbe a braccia aperte io lo vedrei per esempio Cannestrari col professor Geraci mitico sottosegretario così anpassam Nicola quindi è questo ragazzi è questo il punto cioè l'inefficienza delle democrazie è essa stessa democrazia è una caratteristica fondamentale è una caratteristica fondamentale la democrazia per esempio ho saputo qualche minuto fa che c'è a quanto pare un giornalista uno che qualche volta scrive sul fatto quotidiano che dice che pur di liberarsi di Renzi si metterebbe il giubbotto esplosivo ora lo vedete che ho citato il fatto quotidiano ma senza avercela col fatto quotidiano figurati non è quello il problema è uno che scrive no 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 però sono stato abbonato qualche anno fa al fatto e lo rifarei perché mi serviva per il mio lavoro quindi c'è poco da fare lo spiritoso io poi capito cioè se c'è una persona che è un intellettuale uno che scrive uno che ci mette la faccia e dice ah io cioè si potrebbe arrivare anche al al giubbino esplosivo capite bene che ragazzi siamo siamo un filino oltre abbiamo ecceduto e abbiamo ecceduto tutti quanti cioè io per la mia piccola quota parte insomma di un sessantesimo di milione mi ci metto pure io infatti Marco stava dicendo che tu hai sbagliato a parlare al passato perché il pericolo c'è sempre e così a un passano adesso non se lo fila quasi più nessuno però Beppe Grillo ha scritto sul suo blog una cosa che è dobbiamo fare non come facciamo noi democrazie liberali dobbiamo fare come la Cina perché con l'obbligo vaccinale abbiamo passato il segno adesso non mi ricordo che terminologia usata quindi hai evocato quello è bisogno quello è bisogno di apparire quello è bisogno di apparire certo quello è bisogno anche questo è un costo sociale certo certo assolutamente sì l'esternalità negativa della democrazia Greenlock in assoluto in questo caso servirebbe il bonus psicologico esatto anzi scusa non il bonus psicologico il bonus psicologo scusate lo psychobonus che esisteva e che è stato togliato servirebbe anche a me ovviamente non è una battuta contro contro il vecchietto genovese insomma servirebbe un po' a tutti dico un'ultima cosa e poi rilascio la parola a Marco il vecchietto genovese ha dimenticato di dire che in Cina per tre positivi chiudono una città da un milione e duecentomila abitanti altro che democrazia liberale sì perché funziona così la psicologia spicciola di questi tizi qui che facciamo come fanno le dittature però quando gli chiedi il biglietto dell'autobus se l'ha timbrato o meno è un assalto alla libertà personale e alla democrazia capito funziona così purtroppo a questo servirebbe il bonus psicologo per esempio dice Marco no stavo intervenendo prima interrompendoti e mi scuso perché secondo me non siamo affatto fuori pericolo nel senso che scherzi certo che no senza senza come dire fare una fatto quotidianata e urlare al golpe alla fine dello stato di diritto in Italia non è questo il problema secondo me non è questo il punto il punto è fra cinque anni in quali paesi si potrà andare in un ristorante senza mostrare il proprio status sanitario che io non ho alcun problema a fare personalmente però questa è la domanda mi spiego meglio non è che stiamo un po' troppo erodendo e solleticando le fantasie delle persone che preferiscono rinunciare a porzioni sempre più ampie di libertà in 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 cambio di presunta maggiore sicurezza e non sono parole mie queste sono le parole di Mattarella qualche qualche mese fa Mattarella aveva detto la storia insegna che quando i popoli rinunciano alle proprie libertà per presunta sicurezza di solito non va a finire benissimo io ho fatto un tweet qualche giorno fa che sono un periodo particolarmente ottimista della mia vita ma dicendo che io personalmente non vedo come un paese come l'Italia possa uscirne non non mi sembra che l'Italia abbia più la capacità di permettere alle persone che hanno le competenze di acquisire l'autorevolezza e la capacità decisionale per risolvere i problemi che non avrebbero risolti si è proprio rotto il meccanismo per cui riusciamo a mettere almeno alcune persone giuste al posto giusto qual è l'incentivo stavamo parlando prima di Graghi che tu dicevi Costa che non aveva alcuna intenzione di andare a fare il presidente del consiglio e insomma questa è una cosa che diceva persino Travaglio a otto e mezzo a un certo punto e tutti l'abbiamo preso in giro ora aveva evidentemente ragione ma al di là di questo se è questa la situazione cioè che le persone che hanno le competenze per potenzialmente risolvere dei problemi e cambiare rotta non vengono messe nelle condizioni di poterlo fare o se lo fanno lo fanno ma volentieri sperando che finisca il supplizio il prima possibile come sta succedendo adesso qual è come se ne esce cioè vi faccio proprio la domanda come se ne esce l'Italia nel prossimo anno dovremmo raggiungere non 51 109 106 obiettivi ma obiettivi veri questa volta per ricevere 106 106 per ricevere non saranno soltanto milestones saranno proprio obiettivi cioè dobbiamo fare cose e queste cose deve farle questo Parlamento come chi se ne assume la responsabilità per esempio da qui ai prossimi 10 anni se non 20 o 30 io ho la sensazione per esempio che succederanno due cose uno vivremo in un mondo in cui i costi dell'energia non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli che sono stati negli ultimi 30 anni e contemporaneamente avremo bisogno di più risorse per la sanità pubblica come stiamo vedendo ma non soltanto perché per le conseguenze del covid ma anche per l'invecchiamento della popolazione in generale soltanto queste due cose sono decine e decine e decine di miliardi l'anno chi se ne assume la responsabilità di gestire una situazione del genere in Italia a me spaventa la situazione spaventa cioè io neanche più in Italia quindi spaventa relativamente però però è brutta una prospettiva in cui si scivola verso una situazione meno democratica di quella che abbiamo vissuto perché per esempio anche negli Stati Uniti non è che la situazione sia particolarmente bellante caspita nessuno si sente di escludere che per esempio Trump rinca le elezioni fra tre anni la campagna elettorale è sostanzialmente già iniziata vi posso far vedere un tweet che ho appena visto rilanciato da Giovanni Rodriguez altra persona ottima e degna passiamo a mano questa è la serata in cui mi vengono in mente i possibili invitati Nicola nella tua Sicilia oggi c'è stata una manifestazione organizzata dall'euro parlamentare ex lega Francesca Donato no Miss Ceramica sì lei lei di ceramica sì sì parlavi di parlavate di Trump pericoli per la democrazia la democrazia americana che finisce questo è quello che la signora che ha detto la signora beh leggete ho condiviso il video lo vedete quel cane non si deve mandare alla presidenza della repubblica il cane draghi quel cane non si deve mandare alla presidenza della repubblica se vogliono arrivare alla guerra civile per poi mettere la corte marziale si ricordino che l'Italia è ancora un alleato degli Stati Uniti e lì i repubblicani stanno riprendendo il potere beh era un po' quello che ci raccontavamo dieci minuti fa esatto per questo l'ho messo perché era quello che ci raccontavamo qualche minuto fa voglio dire ragazzi ma cioè dieci anni fa ci saremmo mai potuti immaginare di dover discutere di un tentato colpo di Stato negli Stati Uniti cioè ma io non so se non so se sono io scusa la battuta anche perché solitamente erano gli Stati Uniti a fare i colpi di Stato in giro per il muoto questa non è male questa non è male questa non è male ma a maggior ragione ci saremmo mai immaginati di dover parlare di questo non lo so cioè a me sembra che io quello che temo è che la mia generazione soprattutto che è una generazione che ha cominciato come dire a sentirsi raccontare ricordi un po' sviaditi per esempio della guerra e del fascismo in Italia perché mia nonna è mancata che io avevo 13 anni quindi mi ricordo poco di quello che mi raccontava se mai mi ha raccontato qualcosa credo direttamente sulla guerra forse sento più da parte di mia mamma e di mio zio ma cioè ho come la sensazione che si stia dando un po' troppo tutto per scontato e quello che i libri di storia dicono che quando si dà troppo tutto per scontato poi le cose vanno male spero che non ci si trovi in questa situazione però lo temo lo temo ma per questo Marco ti dicevo che con tutti i guai che ci ha portato ma anche con grandissimi con grandissimi favori e una fetta consistente di benessere che ci ha portato a essere alleati degli Stati Uniti ovvero da questa parte del muro non essendoci più quella roba lì detto brutalmente tutti quanti viaggiamo nel buio e nello stesso tempo come ti dicevo poco fa tu puoi mettere chiunque anche il miglior leader del mondo animato dalle migliori intenzioni dalla più forte fede democratica a Palazzo Chigi ma poi diventi un bandito diventi un bandito perché è evidente che il discorso la domanda è come se ne esce se può uscire allora io non lo so come se ne esce perché qui per utilizzare un vecchio articolo vecchio di circa un anno fa di Baricco bisognerebbe avere insomma psicologi artisti romanzieri fisici ingegneri per vedere una via d'uscita io ti posso dire essendo ormai un vecchio arnese di un tempo che non c'è più che se ne esce evitando di puntare il dito evitando di fare il giochino di dire noi siamo nella merda perché ci sono i Novax che oltretutto politicamente è perdente è perdente perché è evidente che se rompi le balle a qualcuno che può avere tutti i torti del mondo questo qualcuno diciamo che si fa un nodo e se lo ricorda e non solo se lo ricorda nell'urna ma se lo ricorda anche come cittadino che è un po' più pericoloso perché il punto non è solo votare il punto è poi come gestisci la tua vita come allevi i tuoi figli e tutto il resto quello che mi viene in mente Marco te lo dico brutalmente e te lo dico con due cose molto molto diverse l'una dall'altro uno è che noi abbiamo perso il senso religioso della vita nel senso che non capiamo che ne abbiamo una sola e che andrebbe e si dovrebbe evitare di sprecare tempo che è l'unica cosa che non si può comprare l'altra è un po' più divertente se vuoi un po' più alatognarsi caro Marco non esistono più le figure di merda di una volta è questo il punto ci ha scritto qualche riga meravigliosa Nicolo Ammanniti sul fatto che non esistono più le figure di merda di una volta perché perché non soltanto i presidenti della regione Campania Sicilia Lombardia si possono permettere di dire al presidente del consiglio faccio come mi pare domani chiudo le scuole domani apro le scuole do la cera e tolgo la cera ma anche il fatto che ci siano partiti che non sanno le persone che candidano e un tempo i partiti erano delle cose serie dovunque erano delle cose serie ti ricordo che un partito conservatore come quello inglese non avrebbe mai accettato Boris Johnson ma non per altro ma per i suoi capelli non l'avrebbe accettato e non è uno scherzo e non è uno scherzo così come il partito repubblicano americano fatto da figli di puttana senza ritegno gente pericolosa intelligentissima non avrebbe mai accettato un cialtrone fallito come Trump fallito perché notoriamente è fallito cioè i soldi non sono i suoi questo è evidente questo lo sappiamo il signor Trump fa attività politica con soldi che non sono i suoi quindi c'è qualcuno che lo finanzia uno di questi ne è stato scritto più e più volte è Robert Mercier per esempio che è un altro soggettino niente male per cui caro Marco non è che se ne esce se ne esce se ne esce alla novecentesca un po' come ti ho detto io in un certo senso per le cose più complicate di sicuro non se ne esce puntando il dito perché è perdente perché è politicamente stupido e perdente e questo è il fatto cioè vi dico soltanto una cosa del mio pessimismo di questa sera il trigger è stato l'aver letto confesso di non aver controllato bene infatti magari Costantino tu magari hai detto qualcosa di più di me se ho letto bene una delle proposte per la verifica delle multe previste per sanzionare il mancato vaccino in caso di obbligo è il fatto che sia l'agenzia delle entrate che faccia i riscontri incrociando il database del ministero della salute io trovo questa cosa veramente il punto di non ritorno cioè quando è l'agenzia delle entrate che incrocia i tuoi dati il proprio database con i dati sanitari dei cittadini siamo al punto di non ritorno secondo me sì allora sì è veramente una situazione fuori controllo io mi aspetto che il garante per la privacy intervenga perché non si tratta di dati fiscali non si tratta dei dati del rapporto che hai con la pubblica amministrazione ma si tratta di dati personali si tratta di dati sensibili i più sensibili in assoluto e quindi voglio sperare che lì veramente ci sia un intervento da parte del garante della privacy come dici giustamente tu se passasse questo principio le conseguenze potrebbero essere pesantissime non soltanto adesso sul fatto delle multe perché il fatto delle multe è una cosa che voglio dire se c'è una sanzione la sanzione ha senso se è possibile applicarla ma le conseguenze di un intreccio di dati di questo tipo possono essere veramente senza controllo io voglio molto bene al garante della privacy qualsiasi esso sia però vi ricordo che il garante della privacy diciamo si è fatto passare davanti negli ultimi tempi eh sì hai ragione delle cose veramente notevoli una se non sbaglio e per favore non apriamo sto discorso è stato quello di avere detto che va bene fare le prove come si dice mettere alla prova il voto elettronico in Italia cioè il voto online questo è il garante della privacy per cui insomma io ripeto io voglio molto bene come io datio voglio bene al papa cioè di default più o meno bene così voglio voglio sempre bene al garante della privacy però come si dice sempre gentile con le persone feroce con le idee il garante della privacy è qualche anno che insomma che ha un occhio chiuso e di questa cosa molto probabilmente è perché sei un signore io avrei detto un'altra cosa ma poi abbiamo qualcuno che protesta che dice che usa il turpilo poi le ricevo io le mail dei nostri ascoltatori ma c'è una ragione sai tu quello che c'ha la faccia che dice un sacco di parolacce io mica io comunque tempi durissimi tempi durissimi secondo me il fallimento adesso per restare in tema e poi andiamo alla chiusura perché come al solito quando cominciamo a chiacchierare il tempo il tempo sembra fermarsi questo ennesimo esempio questo ennesimo esempio del disimpegno sostanziale di Draghi ci dice ancora una volta che questo paese veramente si trova in una condizione pessima però Costa perdonami ti inchiodo anche a te la domanda come se ne esce quali incentivi possono funzionare affinché come si dice le energie migliori del paese prendano in mano la situazione che qua ovviamente è chiaramente un problema di classe dirigente che ha deciso che ognuno per sé di o per tutti a me pare evidentissimo questo possiamo decidere per esempio di abbandonare il patriottismo italiano che ha delle punte di schifezza in Enarrabi e per esempio venderci al migliore offerente e invece recuperare il patriottismo delle arti della cultura della bellezza che è invece una delle cose più belle che gli italiani nel mondo hanno i francesi che ci hanno rubato la gioconda funzionano anche stavolta non ci facciamo rubare una gioconda o il colosseo insomma questo potrebbe essere però Marco a parte la battuta dietro la battuta c'è una motivazione profonda non è che questo paese come nesce questo paese siamo un po' tutti nella merda insomma non è che in altri paesi chi più chi meno sì certo chi più chi meno appunto per questo il patriottismo italiano è quello della bellezza se vuoi anche dello sport delle arti dei versi del romanzo dell'architettura cioè ci abbiamo provato a fare uno stato e ragazzi non ci è venuto bene è andata così è andata così è andata così no comunque non voglio sottrarmi non voglio sottrarmi la domanda di Marco posto che secondo me io sono pervaso da pessimismo cosmico posto che non se ne esce secondo me l'unico modo per uscirne sarebbe vi ricordate quando appunto si parlava di Draghi e quando Draghi fece la sua presentazione nel governo al senato nell'area culturale che io frequento si disse non serve Draghi cioè non serve il salvatore della patria serve però che una classe dirigente che ha l'agenda Draghi adesso l'agenda non intendo puntuale questo punto quell'altro punto ma comunque quel tipo di idea di servizio civico si faccia carico di presentare un'offerta politica che rappresenti l'agenda Draghi sotto quell'aspetto e tanto è vero che poi sono nate iniziative che hanno che lasciano al momento il tempo che trovano purtroppo l'iniziativa dei riformisti e così via in cui c'era appunto Marco Bentivogli c'è una parte di Italia Viva c'è una parte di Azione c'è una parte di Europa c'è una parte di società civile e così via ecco l'unico modo difficilissimo per carità in Italia per uscirne è che una parte di potenziale classe dirigente decida di farsi classe dirigente e quindi in questo modo rinunci se li ha ai privilegi che la politica italiana concede a chi è connivente con la politica italiana questo sarebbe secondo me l'unico modo per uscire dalle impasse in cui ci troviamo e a proposito ancora una volta perché sono un uomo di numero e mi occupo di economia a proposito del PNRR non è tanto i 200 miliardi guardate che non è quello per quanto si farebbero comodo perché le riforme costano le riforme soprattutto quelle ben fatte non producono è il metodo bravo è il metodo tante di quelle riforme tra l'altro i PNRR si potrebbero fare a costo zero quasi zero oppure si potrebbero fare con risorse nostre non con risorse europee ma tant'è giusto ricordiamo giusto ok però è il metodo e io per questo sono pessimista perché nonostante Draghi nonostante un governo che vede i compiti precisi in questo anno quasi perché siamo quasi all'anno io non ho visto cambiamento di metodo fatta e salva quelle due tre cose sì ma però abbiate pazienza ragazzi ma che cavolo vi aspettavate che arrivava Super Mario Bros con quel Parlamento e con quei paesi con quelle misure guarda Nico non ce lo aspettavamo perché noi ti ricordi cosa a febbraio scorso abbiamo fatto anche quella puntata a inizio governo in cui ci siamo detti da subito ragazzi qua non cambia un cazzo esatto qua non cambia nulla quindi non ci aspettavamo nulla non ci aspettavamo nulla cioè ragazzi però non ci aspettavamo nulla ma neanche in peggio no no va benissimo però voi sapete quanto io voglio bene ragazzi noi abbiamo questo governo perché prima c'era uno come Giuseppe Conte punto se qualcuno si aspettava qualcosa di meglio perché arrivava qualche ministro che sa fargli conto è impossibile non ci si aspettava niente di meglio ma si sperava non ci fosse neanche niente di peggio ho capito però Marco tu hai ricordato una cosa che io tendo avevo dimenticato che c'avevamo là il capo che gestiva l'emergenza covid che appunto disse dice no ma vacciniamo la gente dopo che se lo sono preso tutti io questo me l'ho dimenticato perché tendiamo perché siamo affollati di cose serie meno serie nella testa per cui è evidente e a proposito scusami cosa vi aspettavate e a proposito un certo atteggiamento dei lasciatemi usare questo termine dei poteri forti perché in quel caso i poteri forti sono una struttura commissariale al giornalista di turno che in conferenza di stampa diceva ma dottor Arcuri la risposta del dottor Arcuri era io la querelo così dopo le cose terrificanti che ci stiamo confessando davanti a un bel po' di gente vogliamo parlare pure della stampa italiana lo rimandiamo ad un'altra volta il discorso per tre anni che a me faceva male perché la signora in questione è nata in Sicilia e quindi io pensavo sempre a Leonardo Sciascia ha capito che dice cazzo io sono nato lì e poi è arrivata qua e ancora queste parolacce ha capito però non parliamo della stampa italiana per favore perché insomma io ve lo dissi una volta che fosse stato per buona parte della stampa italiana fino al 92 Provenzano e Rina potevano arrivare uno a Palazzo Chigi e l'altro a Quirinale con gli applausi dei poteri forti della stampa ma questo è un'altra storia è un'altra storia diceva Lucarelli è veramente un'altra per cui basta che poi io tento di fare il moderato ma tu capito ti attacchi alla giugolare non è giusto poi dice anche le parolacce mi arrivano questa cosa prima o poi la risolviamo dovete sapere che a Marco è arrivata una mail molto bella di una signora che ci ha detto voi siete bravi mi piacete tutto il resto noi la paghiamo tutti i mesi ovviamente e adesso la salutiamo anche Marco ha la mail che dice però insomma voi dite un sacco di parolacce che è vero è verissimo io non vi racconto da quando ho iniziato a dire parolacce perché non frega niente a nessuno ma la scenetta era niente male detto questo però mi sono fatto una cultura in queste settimane natalizie e ho letto un sacco di cose meravigliose scritte da gente da gente col cuore grande e il cervello fino che la parolaccia ha un suo significato profondo quindi prima o poi mi sto accingendo a scrivere una cosa molto divertente molto seria su questa cosa però è vero io dico un sacco di parolacce e di questo mi dispiace ma fino a un certo punto mi dispiace che alla nostra ascoltatrice un po' la signora vera la signora vera esatto insomma infastidisca il mio turpilopo però io ci provo non c'è riuscita manco mia mamma con la cucchiarella di legno speriamo ci segua comunque speriamo che i contenuti siano comunque apprezzati ragazzi io direi di chiudere prossime puntate probabilmente prossima puntata parleremo appunto di questa cosa del voto elettorico non ne parla nessuno noi siamo stati probabilmente i primi a parlarne proprio con l'osservatorio perché non ho visto nient'altro nessuno nessun giornale ne ha parlato è uno di quei temi estremamente tecnici molto complessi di cui non si afferra immediatamente comprensibilmente il punto e le potenziali conseguenze pericolose quindi capisco che ci sia poco interesse capisco che chi ne parla ne parla senza le necessarie competenze però sarebbe il caso che quando gli si fa notare che per parlare di questo argomento ci vogliono determinate competenze è un argomento da capire ci fosse una reazione consona e non il prese in giro che mi sono preso io insieme a Matteo amico Matteo Flora qualche giorno fa non è questo non è un problema però approfondiamo la cosa e Nicola ha scritto un magnifico articolo ne ho scritti diversi su questo tema uno è di qualche giorno fa di quando è Nicola l'ultimo articolo il 6 gennaio era il regalo della Befana esatto perfetto quindi invito invito che ci ascolta a recuperare quell'articolo perché è veramente molto molto interessante molto profondo allora diciamo è l'ultima frontiera prima di idiocrasi il voto online bravo bravo la battutaccia la battutaccia che ovviamente non potevo scrivere nell'inchiesta perché il riformista è un giornale serio è che il problema non è il voto elettronico il problema è il voto dovremmo smettere di votare altro che votare elettronicamente cioè se già il voto è pericoloso e ci porta quindi lo sai come si riesce è che non hai il coraggio di dirlo no non è che non hai il coraggio di dirlo è che è che non è non è bello essere cattivi in questo momento insomma cioè secondo me bisognerebbe essere cinici e cattivi quando quando il mondo è un po' troppo zuccheroso per i miei gusti invece è veramente un mondo amaro e quindi non è giusto essere cinici e cattivi cioè lo sono tutti lo sanno fare ormai tutti questo giochino e a me non mi piace insomma va bene ci vediamo presto ragazzi ciao un abbraccio anche a voi cari fottutissimi amici ciao ciao grazie grazie per avermi ascoltato fino a qui se ti piace questo podcast lascia un like un commento una recensione ovunque tu lo stia ascoltando iscriviti e condividilo con i tuoi amici questa puntata è stata ideata prodotta e montata da me marco canestrari la foto di copertina è di sala grandieri mi puoi seguire su twitter e telegram cercando il nuovo utente marco canestrari iscriverti alla mia newsletter sul sito marcocanestrari.it o anche mandarmi un messaggio vocale dall'indirizzo marcocanestrari.it slash parla grazie a tutti